Ciao amici, oggi faccio una cosa un po' diversa. Invece di fare il solito video, vi faccio un regalo. Sì, io adoro i regali. Cosa ci regali? Oro, diamanti, come a Bugatti, Chiron? Vi regalo quello che valorizza tutte le cose che hai detto. Vi regalo come dimagrire. Siamo sinceri, per noi donne, ma anche per molti maschietti, il problema del dimagrimento è una cosa seria. Se non dimagriamo, ci sentiamo giù, non ci riconosciamo in noi stessi e niente ci dà gusto. È esattamente così che stava la mia amica Giulia, che qui chiamerò Giulia, quando un mese fa ho deciso di aiutarla. E come l'hai aiutata? È facile, le ho fatto vedere i miei video. Ma perché non lo faceva già? Sì, ma poi non metteva in pratica i consigli. Ed era in una spirale di negatività. Secondo lei non funzionava niente, era tutto inutile. E pensava di essere condannata a restare grassa perché era sfortunata. L'unica cosa che faceva era provare un po' di questo, un po' di quello. Ma poi tornava alle sue vecchie abitudini, proprio quelle che l'avevano fatta ingrassare. Allora le ho detto, senti Giulia, facciamo un patto. Tu per un mese segui i consigli di questi video e vedrai che qualcosa cambierà. Attenzione però, devi lasciare le tue cattive abitudini. Ce la farai per un mese? Giulia mi ha promesso di sì e ci siamo dati appuntamento dopo un mese. E dopo un mese non credevo ai miei occhi. Ce l'aveva fatta, aveva rotto il ciclo di negatività e aveva fatto progressi. Ed era stupita anche lei. aveva perso 5 chili seguendo semplicissimi consigli. Brava Giulia! Ma quali sono questi consigli? Ce li ho pronti, ma per sbloccarli dovete far fioccare i mi piace, ok? Tanti mi piace, tanti nuovi consigli dimagranti. Sui like, forza! Su, fateli salire questi like! Per dimagrire bisogna seguire una routine sana che copra tutti i momenti della giornata, dalla mattina alla sera. Così non ci sono buchi vuoti dove si insinuano le vecchie abitudini ingrassanti. Al mattino l'ideale è sciacquarsi la bocca per togliersi le tossine della notte e bere acqua calda e limone. È uno dei pilastri del benessere e del peso forma, come mi scrivono molte persone. Ho spiegato tutto nel dettaglio in questo video. A colazione, una delle mie preferite è la colazione del barattolone, perché è semplice, versatile, veloce da preparare e va bene per tutti. Onnivori, vegani, intolleranti al glutine e allo zucchero, sportivi, affamati e persone a dieta. Questo è il video dove spiego per filo e per segno come prepararla. E se ho fame a metà mattina? Io consiglio di fare un break con un frullato, per chi vuole stare leggero, o con una barretta proteica sana, per chi ha bisogno di più sostanza, o fa un lavoro attivo. Le ricette del frullato e delle migliori barrette sono in questi video. Per il pranzo bisogna stare leggeri, ma nutriti. Cosa ne dite della mia insalatona risolutiva che in tanti adorano, o della mia insalata di riso brucia grassi? I dettagli e le ricette in questi video. A metà pomeriggio si può bere un frullato light, amico della linea, può riempire quel vuoto senza appesantire. La mia ricetta sfiziosa, ma in questo video. Arrivati a cena, bisogna restare leggeri perché altrimenti si rovina tutto il lavoro della giornata. Per non avere fame consiglio abbondanti proteine, vegetali meglio, abbinate a tante verdure cotte, visto che i cereali li abbiamo mangiati a pranzo. I migliori consigli brucia grassi per un menù sano e gustoso li trovate in questo video. E per chiudere, ma una deliziosa tisana a base di zenzero. Ottima per favorire la digestione, prevenire il gonfiore e sostenere il metabolismo. La mia ricetta preferita l'ho fatta vedere in questo video. E in quest'altro c'è una ricettina per un dolce light, goloso, perfetto per il dopo cena. Oh, quanti video! E come faccio a trovarli tutti? Per praticità li ho messi tutti in una raccolta di video o playlist che si chiama Una giornata dimagrante. Così li trovate in fretta, non perdete tempo, li potete vedere uno dopo l'altro. Il link è in descrizione e nella scheda cliccabile nella i qui in alto. Se volete rivedere questi consigli con calma e magari riceverli via mail, andate sul mio sito usando il primo link che trovate in descrizione. Il primo link non si scorda mai. Dal telefonino la descrizione si apre cliccando sul titolo del video. Bene, adesso condividete questo video con tante amiche e tanti amici, così passiamo tutti un'estate snelli, in forma e sani. Vi ricordo che nel mio lavoro di naturopata mi occupo anche di dimagrimento senza dieta. Chi vuole dimagrire con un approccio personalizzato può scrivermi dal link in descrizione. E ora iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. E abbonatevi per sostenere il mio lavoro di divulgazione con un piccolo contributo mensile. Grazie! Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ma bugatti? Possiamo più tempo. Colazione!